Sui lecci il comune sembra fare marcia indietro dopo la mobilitazione che si era accesa nelle scorse settimane. A margine della preconsigliare tenutasi ieri in vista del consiglio comunale del 16 luglio, la maggioranza, il sindaco Ghinelli, il vice sindaco Gamurrini, hanno affrontato anche il tema del restyling e riqualificazione dei giardini di Viale Michelangelo, meglio conosciuti come giardini del Porcinai, prendendo la decisione di riconsiderare il previsto intervento di abbattimento dei lecci esistenti e in particolare la loro sostituzione con i Tigli, sostituzione che era stata indicata dalla soprintendenza in coerenza con il progetto originario dell'architetto fiorentino risalente agli inizi degli anni 30. Questo intervento è stato riconosciuto porre problematiche complesse e serie sia in termini di reazioni allergiche che di salute ambientale. Per questo motivo il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici Gamurrini si rivolgeranno alla soprintendenza per proporre una soluzione alternativa che preveda il mantenimento di almeno una parte dei lecci esistenti, lecci che dunque sembrano essere salvi. Da queste considerazioni il comune si è reso conto che l'intervento forse era troppo drastico e le ragioni che erano state sollevate anche dall'associazione ambientaliste probabilmente avevano un fondo di ragione.